Fissi siamo forse una decina di persone, fissi nel senso abbiamo iniziato anni e anni fa e continuiamo a venire nonostante altri impegni, c'è chi lavora, però inutile, è un'unica radio, una specie di gabbia, non riusciamo a uscirne. Nel senso che è un laboratorio aperto a tutti, quindi diamo la possibilità di fare tirocinio e per questo è sempre un vai e vieni di persone nuove che provano, sperimentano, magari non gli piace, se ne vanno oppure alcuni, come nel nostro caso, si appassionano e decidono di rimanere.